Il gruppo politico di Forza Italia Giovani ha organizzato la mattina dell'8 febbraio in piazza Garibaldi una raccolta di giocattoli nuovi ed usati per i bambini meno fortunati. A partire dalle 10 di mattina e fino alle 12 e 30 era possibile donare i giocattoli presso il gazebo allestito dai giovani forzisti. Lo slogan adottato per queste iniziative è Aiutaci ad aiutare ed il seguito della raccolta alimentare organizzata il 25 gennaio rivolta sempre ai meno fortunati. La raccolta di giocattoli nuovi e usati proseguirà anche nei prossimi giorni. Chi vorrà potrà donarli presso la sede di Forza Italia in via consiglio oppure potrà portarli presso uno degli istituti scolastici presenti nel territorio.